. Georgia premiata i Wind Summer Festival, il grande traguardo. Wind Summer Festival premiata Georgia. Ne ha fatta di strada Georgia da quando qualche anno fa si è esibita sul palco del festival della canzone italiana. . Ora è una delle cantanti più apprezzate e famose che noi italiani siamo fieri di avere e stasera, i Wind Summer Festival, sarà premiata per lultimo traguardo raggiunto, la certificazione del disco di platino del suo ultimo lavoro discografico, Oronero. . La cantante romana ha ricordato, attraverso il suo profilo social, della sua presenza all'evento di Canale 5. . Georgia, oltre a ritirare il premio per le migliaia di coppie vendute del suo album, si esibirà per il pubblico dell'Arena di Verona con il singolo credo, ultimo estratto da Oronero. . Un periodo d'oro per la cantante, che sembra collezionare un successo dietro un altro a livello lavorativo. Stasera, i Wind Summer Festival, sono assolutamente un evento da non perdere. Georgia stasera ai Wind Summer Festival con il singolo credo. . Oltre a Georgia, con la sua credo, ai Wind Summer Festival ci sarà anche Ermal Meta che torna sul palco dopo l'incidente avvenuto durante un suo concerto all'Arena di Mare di Salerno. . Stasera sarà l'ultimo appuntamento per l'evento musicale più atteso di Canale 5. La rete ha intenzione di fare le cose in grado, regalando al pubblico da casa una serata coi fiocchi. . Assisteremo alla premiazione di Georgia, con la certificazione del suo album Ornero. La cantante romana si esibirà con il singolo credo. . Ma non sarà l'unica ad esibirsi sul palco dei Wind Summer Festival. Stasera, il pubblico di casa, potrà godersi tantissime altre esibizioni canore. . Qualche nome? Il volo, Francesco Renga, Alessio Bernabei, Fabio Rovazzi e tanti altri. Canale 5 chiude in grande lo show musicale estivo più popolare degli ultimi tempi. . Non ci resta che attendere ancora qualche ora per poterci godere in piena tranquillità lo spettacolo da casa. .